Benvenuti nel canale YouTube di Centro Stile! Catenelle, cordoncini, astucce portaocchiali, panni in microfibra e spray detergenti. Piccoli gesti quotidiani per prendersi cura dell'occhiale e migliorare il benessere visivo. Per ogni momento della giornata, in base all'attività svolta, un'ampia gamma di occhiali da vista, da sole, da lettura, per lo sport e il tempo libero, curando i dettagli per assicurare il mantenimento del corretto centro ottico e il comfort visivo. Lenti di ingrandimento ad alto potere ingrandente, ausili ottici ed elettronici, soluzioni visive specializzate, dedicate agli ipovedenti, in collaborazione con aziende internazionali leader nel settore, innovazione e funzionalità tecnica in laboratorio per il montaggio dell'occhiale e servizio di assistenza. Centro Stile, un percorso importante nell'ottica del futuro, nei migliori negozi di ottica.